L'Italia ne ha più di quello che ci immaginiamo, come lo capiamo? Capiamo in modo evidente. L'Europa stava per affondare, perché l'Italia stava per affondare, parlo del novembre 2011. Se la Banca Centrale Europea ha potuto decidere di adottare gli strumenti che ha adottato, l'acquisto dei titoli, seppure solo, non strutturalmente, ma a breve termine, con motivazione di liquidità, perché ha prezzi irragionevoli, lo ha fatto perché l'Italia è stata rimessa in sesto dal governo Monti, altrimenti non sarebbe mai intervenuto quel provvedimento. Cosa dimostra questo? Che l'Italia avrebbe trascinato con sé l'intera Unione Europea. L'Italia è uno dei partner fondamentali dell'Unione Europea, non è un piccolo elemento, e quindi può raccontarsi una storia un po' più alta, può avere la testa un po' più alta, può pretendere alcune cose. Ad esempio può pretendere, è una battaglia che avevamo fatto già con Monti, l'ha continuata Letta, spero che Renzi sia più bravo sia di noi che di quanto non sia stato il governo Letta, di riconoscere una flessibilità, di applicare la flessibilità del patto di stabilità europeo, non si tratta di cambiare trattato, di applicare la flessibilità già prevista del trattato ai cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali. Vuol dire sostanzialmente levare il patto di stabilità allo 0,25, 0,30 del PIL, liberare investimenti nei comuni, nella regione, una battaglia che iniziamo nel 2012, non ce l'abbiamo fatta, spero che Renzi ce la faccia.